Buongiorno, benvenuti a questa sera di oggi, 30 dicembre 2020. Il titolo del Corriere della Sera, quello più significativo dal punto di vista delle ehm diciamo delle notizie di oggi è Corsa ai vaccini, un titolo che ovviamente non dice nulla se non si qualifica a quello che sta succedendo e altri tredici milioni di dosi per l'Italia. Ovviamente questo eh sottotitolo è del tutto falso perché l'Italia non ha nessuna dose in più. L'Italia si era affidata a un accordo europeo e da questo accordo europeo è stata fregata come tutti gli altri paesi europei perché è stata fregata non solo si è fregata per la sua incapacità di organizza organizzativa di cui però voglio dire vedremo nei prossimi mesi se hanno ragione Arcuri e compagnia cantante dicendo che tutto va bene. Oggi i giornali dicono che questo non è vero ma è stata fregata come da tutti gli altri paesi europei dalla intraprendenza tedesca che si è portata a casa trenta milioni di vaccini della sua eh dalla sua parte eh oltre agli accordi previsti comunitariamente però andiamo a vedere tutte le cose nel dettaglio. Il fatto il fatto è eh surreale perché il fatto oggi nella sua eh sovratestata il giornale di Conte dice la Germania in difficoltà o spedale in emergenza e moltissimi morti. Poi vai a leggere l'articolo e capisci che in realtà se noi avessimo la loro emergenza beh insomma staremo molto meglio e il foglio invece eh sempre con la Germania fa un paragone e dice beh insomma intanto c'è un aspetto molto importante perché in Germania esiste un istituto che si chiama Robert Koch che eh monitora giorno per giorno istante per istante il numero dei vaccinati. Secondo voi c'è in Italia questa roba? No ovviamente la trasparenza in Italia affidata a Der Commissar e a quell'altro conte la trasparenza in Italia è una specie di inesistente chimera che qualcuno di noi spera che ci sia. La sostanza vera è che quindi eh in Germania hanno già vaccinato cinque volte quello che siamo riusciti a fare in Italia numeri ridotti perché noi ne abbiamo fatti ottomila loro ne hanno fatti quarantamila però insomma loro stanno andando come dei treni hanno organizzato come dei treni invece noi abbiamo Boeri e i suoi gazebo con la primula se per voi è una cosa normale interessante molto interessante secondo me sul messaggero il pezzo di Nordio e Nordio dice in realtà che mh citando proprio l'accordo quello del diciotto giugno articolo sette in cui è previsto dagli accordi comunitari che nessuno può separatamente negoziare i vaccini in Europa cioè gli europei si sono dati una regola e chi l'ha rotta questa regola? I tedeschi. Poi se vai a vedere il Corriere della Sera che è sempre il giornale più filo tedesco italiano eh il il giornale per cui noi siamo sempre dei cialtroni beh insomma è la tesi di Monti che non peraltro oggi viene ridicolmente intervistato poi ve ne parlerò dal Corriere della Sera gli italiani cialtroni tedeschi fichi eh è straordinaria la posizione cioè questa idea questo retro pensiero filo tedesco è straordinario perché sono veramente fichi però anche quando sbagliano non riescono a dirglielo insomma il Corriere della Sera oggi dice non è vero non è quello che dice Nordio anche se non rispondono a Nordio ovviamente sono contemporanei i pezzi perché in realtà l'accordo prevedeva che non se ne prendessero precedentemente eh le dosi ma dopo l'accordo si potevano prendere ragazzi toc toc anello al naso proprio anello al naso no vi è del tutto chiaro quello che è venuto la Germania se ne è strabattuta le palle e si è comprato più vaccini di quelli che gli davano perché loro ragiono in maniera molto semplice se abbiamo un'organizzazione fantastica voglio dire dai eh e siamo in grado eh di vaccinare più persone possibili quindi noi ogni persona che vacciniamo prima è una terapia intensiva in meno uno spedalizzato in meno una eh apertura in più una potenza economica in più stile cinese che oggi è l'unico paese al mondo che ha il pil che cresce attraverso il la dittatura del comunista quello invece attraverso l'organizzazione SAP questo è il poi insomma ovviamente scacca Barozzi presidente della farmindustria eh ha ragione non facciamo polemiche a me è rimasta qua questa cosa di scacca Barozzi che ieri fanno intervista non facciamo polemiche no non facciamo polemiche mentre quelli fanno cinque volte più vaccini di noi noi non possiamo neanche fare polemiche non facciamole neanche con la Germania che si è presa ehm più dosi rispetto a noi tutti gli altri giornali ovviamente fanno eh mi sembra che sia Repubblica vaccino falsa partenza Rar Curi lavora a un piano B perché nel frattempo che cosa è successo che l'EMA ehm l'organizzazione che deve autorizzare i farmaci in Europa dice che il vaccino AstraZeneca sulla quale anche su quello l'Italia aveva delle dosi quelle dosi non arriveranno perché probabilmente a gennaio non verrà autorizzato eh il vaccino AstraZeneca beh insomma è una cosa che si poteva mettere nei conti tutti i vaccini possono non essere utilizzati dall'autorità europea che oggi viene definita la più rigorosa di tutte tant'è che oggi invece i giornali raccontano di come il medesimo vaccino non autorizzato in in Europa verrà autorizzato in Gran Bretagna così siamo con la solita storia cioè in Europa abbiamo i tedeschi che sono più furbi del bigoncio cioè se ne fottono degli altri nel frattempo gli inglesi se ne strafottono anche dell'Europa e dei tedeschi e vanno avanti eh come se non ci fosse un domani vi segnalo anche che la questione della Germania non è una questione di oggi la Germania ha fottuto l'Europa e in questo caso Italia ed Inghilterra oggi l'Inghilterra se ne sbatte della Germania ma l'Italia non se ne può sbattere sapete quando quando ci fu la speculazione di Soros contro la lira e la sterlina all'epoca la banca centrale tedesca doveva difendere lira e sterlina cosa che non fece lo aveva detto nei patti che l'avrebbe fatto poi non la fece e l'epoca e dopo qualche mese dissero quelli della banca centrale tedesca non l'abbiamo fatto nonostante la politica ce l'avesse chiesto perché noi siamo indipendenti facciamo come ci pare questo diceva la banca centrale tedesca quello oggi dicono i tedeschi sui vaccini insomma i tedeschi alla fine i patti sulla questione quando c'è i cazzi loro non li rispettano mai altro che italiani non li rispettano rispettano le piccole cose insomma di dettaglio sono perfetti nelle procedure nelle organizzazioni ma se possono andare un cincinin avanti rispetto a questi latini cialtroni lo fanno senza problema e lo hanno fatto anche nei confronti degli anglosassoni e per la seconda volta gli inglesi non ci sono caduti ricordate lo dirà sterlina speculazione di Soros chi molla per primo contro tutti gli accordi e la bundesbank e ci rimettero i miliardi gli italiani e la banca centrale italiana nel frattempo diventa surreale il come si chiama il dibattito oggi sui giornali sull'obbligatoria dei vaccini ragazzi qua come mi ha raccontato l'altro giorno un amico del lippi al tg5 qua dovremmo sulle quali io ovviamente non condivido assolutamente nulla dal punto di vista politico però va detto una cosa secondo me tipica della sua intelligenza guardate che qua dobbiamo far finta che i vaccini non ci sono in Italia così se noi diamo un elemento di scarsità sui vaccini vedrete quanti italiani andranno a correre per farsi il vaccino e forse ci sta locatelli oggi dice che i medici che non si vaccinano non possono andare in corsia ragionevole questa è ancora voglio dire per quanto mi riguarda organizzazioni del lavoro diverso è se le persone che non si vaccinano e non hanno non hanno diritto di farlo cioè obbligatorio il vaccino per me è una roba che come scrive oggi forse belpietro sulla verità non ha alcun senso da un punto di vista completamente diverso rispetto a quello che penso io e quello che pensa invece belpietro è un'intervista di cassese mi sembra oggi sul sulla stampa un giudista che io stimo enormemente e che dice oggi in contrasto a quello che io ritengo ma lui vale la pena leggerlo perché sono sempre argomentazioni intelligenti quelli di cassese e tra l'altro è uno di quelli che ha combattuto per la nostra libertà in questi momenti liberticidi da parte del governo cioè non è un fan dei dpcm delle attività liberticide di questo governo dice siamo l'obbligatorietà del vicino non viola non viola scusatemi la costituzione sul mattino scusatemi l'ho letta questa intervista quindi molto interessante arriva il patentino che è l'altra declinazione alcuni di voi mi dicono ma scusami tu sei contro l'obbligatorietà ma sei a favore del patentino io non so se sono a favore del patentino vi dico la verità io sono a favore del fatto che ci si possa organizzare in modo tale che chi si è vaccinato ha dei gradi di socialità superiore a chi non si è vaccinato semplicemente questo se tu vai a fare la caccia grossa da qualche parte almeno fino a un po di anni fa devi avere il patentino per la febbre gialla se tu vai fare il sub devi avere il patentino per fare il sub beh possiamo anche contestare l'eccesso di patentini però probabilmente io non vedo nulla di male nell'idea che in un momento grave come questo perché non ci sono dubbi che il momento sia grave ci si organizzi beh Tino Aldani oggi su Italia Oggi fa un pezzo meraviglioso Italia Oggi e che cosa dice Tino Aldani oggi eh su Italia Oggi che mentre noi pensavamo a giugno ai banchi a rotelle che sono stati un flop non solo perché sono avviati ritardo non solo perché hanno dimostrato per primo quanto der commissar è arrogante ed incompetente non solo per questo ma perché mentre noi facevamo i banchi a rotelle per una scuola che poi è chiusa noi eh abbiamo visto l'esempio di Tino Aldani di quello che facevano in Germania mentre noi a giugno facevamo i banchi a rotelle noi lo organizzavano i luoghi per le vaccinazioni noi siamo qua ancora con Boeri a fare i padiglioni della primula eh nelle nostre città non capendo che noi siamo ci perdiamo dietro a queste robe qui fantastico il travaglio nel momento in cui tutti si occupano delle cose serie lui oggi fa una difesa di conte sulle di arcuri scusatemi sulle siringhe e spiega che grazie a queste siringhe che lui dice non essere più care sono il doppio più care basta leggere gli appalti eh che ha fatto arcuri l'abbiamo trasmessi a quarta repubblica sono il doppio più care però lui dice potete prendere un po' più di dosi quindi non cinque dosi per fiala ma sei dosi per fiale in c'è un elemento di verità in quello che dice io voglio vedere mancando oggi quindicimila operatori sanitari perché il bando è stato fatto l'undici dicembre io sono certo che noi saremo lì a prendere a succhiare la dose perfettamente quando uno guarda il dettaglio sulle carte e non la sostanza cioè quello che ehm ovviamente conta a tutti poi voglio dire noi siamo il paese in cui eh stiamo facendo una crisi di governo in questo momento una crisi di governo e per fare la crisi di governo prendiamo il principale giornale italiano che si chiama il Corriere della Sera che chiede sull'indiscrizione che è uscita ieri su un altro giornale cioè su una stampa se è vero che Monti si sta facendo eh sì scusatemi se è vero che Conte si sta facendo il suo partito e per chiedere una cosa di questo tipo a chi interpella il più grande analista politico del mondo Mario Monti quello che si fece diventare senatore a vita e si fece il suo partitino che fu un flop alle elezioni lo facciamo intervistare dal loro migliore inviato economico Fubini per far sapere agli italiani quali sono le cose che deve fare Conte per farsi il suo partito io la trovo una cosa allucinante questo è da onanisti del politichese romano ma chi se ne frega del del partito di Conte fino a quando è nei retrosceni della politica ci può stare ci facciamo un'apertura e ci mettiamo il nostro e e chiamiamo Mario Monti un signor nessuno che come Mercuri ha dimostrato di essere piuttosto incapace nella gestione della cosa pubblica fate come mi pare eh nel frattempo Gualtieri risponde alla intervista di eh Gentiloni ieri G e G invece che D e G che dicono tutti e due che l'Italia è in ritardo sul eh recovery fondo rischiamo di perdere i fondi europei toc toc bisognerebbe spiegargli dal fatto a Casalino tra l'altro Gandola oggi sulla verità ci racconta di come ci sarà uno straordinario ritratto di Messie Casalino su panorama Salvini al collega della sera dice siamo pronti per governare e mentre nel frattempo riesco a comprendere eh dov'è che l'ho letto perché è importante che io ve lo dica Conte come Kennedy mi sembra che sia il foglio solo il foglio può scrivere Conte come Kennedy empatico e che piace alla gente e quindi ci sono due possibilità che veda il bluff di Renzi e quindi dica sai che c'è Renzi perfetto andiamo a votare si faccia il suo partito e stravinca questa è la cita il paradosso eh di Tocqueville non mi ricordo chi il paradosso di Tocqueville è che la gente vota il suo sostanzialmente carnefice finché le cose vanno malissimo quando vanno un pochino meglio beh se ne sbarazza è il caso carnefice si fa per dire di Winston Churchill che ha vinto le elezioni ha vinto la guerra la grande guerra quando però è finito l'emergenza se ne sono riusciti a liberare stesso processo avverrebbe anche per Conte ehm Minzolini dice che il Conte 2 è finito e e che Renzi andrà al colle a dire che si deve fare assolutamente draghi nel frattempo c'è una cosa che è sottotraccia che è fondamentale e cioè che secondo questi geni della banca d'Italia italiana e della banca centrale europea ma anche della nostra politica perché è una cosa che eh nasce anni fa d'ora in poi chi avrà qualche rosso in banca anche da 100 euro 200 euro 300 euro ne va tre ripetutamente beh verrà segnalato alla centrale rischi cioè la morte civile fiscale di un essere umano grazie al non pagamento di una bolletta e quando entra in vigore questa roba ovviamente nel momento di maggior crisi dell'economia italiana voi poi pensate che eh questi burocrati siano lì che stanno facendo il nostro bene o forse pensate che siano completamente scollegati alla realtà c'è un signore in Europa che potesse che possa dire beh forse non è proprio questo il momento di andare a fare questa stretta creditizia questa stretta sul merito del credito in Europa c'è qualcuno che lo può fare beh ovviamente l'Europa è questa roba qua però noi l'Europa la amiamo e non si può discutere se no sei un sovranista populista nel frattempo il cashback sta andando avanti sta andando benissimo io sono cinque giorni che non mi non mi registrano neanche una transazione ma forse colpa mia ma cinque giorni che non me ne il grandissimo sistema informatico non riesce cioè le transazioni mi vengono registrate sulla mia carta di credito ma non sull'applicazione del cashback può essere può essere tutto ma la cosa straordinaria è che oggi il messaggero ci spiega che il cashback 4 viva 7 miliardi che vengono dati a persone anche come me insomma che non hanno grande bisogno di avere questo cashback perché pagavano già prima con la carta di credito e non hanno certo un problema in questo momento economico come hanno molte persone beh insomma questi miliardi verranno presi da recovery fund metà del degli stanziamenti che recovery dà la sanità verranno dati a questa minchiata del cashback figurati a me mi fa anche comodo ma vi sembra una cosa seria bene parleremo della giornale dei vaccini e parleremo anche di questa roba delle banche sul sito nicolaporro punto it andate a vederlo perché è una roba pazzesca ciao